Quattordicenne picchiato selvaggiamente da un compagno di classe, colta alle spalle, è stato preso a calci e pugni in faccia con una tale violenza ad aver riportato un trauma cranico facciale. L'aggressione sì, è stata molto violenta, il ragazzo è stato selvaggiamente picchiato, era sanguinante, è riuscito a rientrare a scuola e a chiedere aiuto al suo vicepreside. A salvarlo dalle grinfie dell'aggressore e dei compagni di classe con alcuni professori, tra cui il preside che successivamente sospenderà il bullo da scuola per 15 giorni, motivo di tanta aggressività l'invidia del teppista nei confronti del compagno di classe, studente modello, bravo in tutte le materie e soprattutto generoso ad aiutare i compagni di scuola nei compiti e interrogazioni. Un bravo studente, un ragazzo modello, sempre pronto e disponibile ad aiutare i compagni di classe nei compiti. Il grave episodio di bullismo, soltanto l'ultimo di una serie registrata in due distinti istituti superiori della Castellana. Pochi giorni prima, infatti, alla stazione delle Corriere di Castelfranco, altri tre ragazzini erano stati picchiati da due bulli, di cui uno maggiorenne, perché sprovvisti di denaro. Episodi che mettono in evidenza come ora più che mai sia fondamentale diffondere la cultura della legalità, con i ragazzi che avrebbero bisogno di essere maggiormente seguiti anche fuori dall'ambiente familiare. Non a caso sempre più stretta la collaborazione tra istituzioni scolastiche e forze dell'ordine. Tra noi e le istituzioni scolastiche ci sono già ottimi rapporti. Lo stesso devono essere anche con i genitori dei ragazzi che possono essere protagonisti sia passivi che attivi di questi fenomeni qua.